Ciao ragazzi, eccoci qua in un posto, direi, magico. Qui c'è questa valle, il posto sul Blanche, con questo torrente a mezzo di Oliandro. Buongiorno a tutti. Buongiorno a tutti. Buongiorno a tutti. Buongiorno a tutti. Guardate queste rocce modellate dal vento. Sono molto simili a quelle che si trovano in molte spiagge in Sardegna. Buongiorno a tutti. Buongiorno a tutti. Buongiorno a tutti. Buongiorno a tutti. Buongiorno a tutti.